No, grande! Ti ricorderemo! Morto facendo ciò che amava! Ti regazzate quindi! La gare! Il tipo Mei è proprio cacro in inglese comunque Dio a Reina Non hai la bottiglia, dai oltre? Ormai! Dove a finire! Non mi ricordo come si fanno le frasche C'è quel pulsante! Di una volta è C Stato, finiscono e... Oh no! Ehh, quel colpo di lag è cattivo! Segui te Reinhard Dov'è il punto? Non sono le ricotte! C'è, non so neanche a chi è Eren Vai mio condottiero! Mi ha laggato! Non so perché Pietro! Ehh... Mi chiedi va! E' getting! E' getting! E' vaga tutti i diver del gioco Plessima polla! Mi metti il boot! Non è servito a me! C'è, lo flotta! Garni di... Questo ti ho vendicato! Guarda te! Si sta divertendo così che lo dovrò direi? Che un po' Continuerò con... Non lo so... Oddio... Non è che sia molto utile quando mi verrà in attitudine Poi... Non saprei chi mi metterà il boot! Dov'ho messo! Minchia, sua madre deve essere veramente fia Leve l'ho messo al mondo! Diva! Presa Diva! Ma Dio Santo che cazzo fa due di... Qua... Sei un bastardo! Ammazzati i griffi hai detto! Che ho fatto? Non mi dovete annunciare la griffi! Ma vi ho Sombra! Voglio vedere come si diverte! Eh... Mi basta niente! Anche... Domkis in età che cambiamo! Sì, di Sombra... Gli passa la voglia di giocare! Domkis c'è ancora però... Sì... Tornate indietro! Ecco... Lo Cristo sale di sopra... Mi è usato da solo! C'è anche Zegno! C'è lo genito! C'è lo genito! E a destra sono scimmie e roddo... Quanti cazzo hai detto anche a destra? Lui ha fatto il pugno per muoversi e mi ha ucciso! E a destra! E' morto! Eh... Senza pugno se sono fottuto! Eh... Se stai dentro una battiata non si può suddurare! Perché non c'è giù? Eh... Se tu devi invadiare le nemiche! Se la smetti di vendere danno però così gratuitamente magari... Magari... Io posso fare le part-off! Dito! No figlio di me! Uppai a darmi la caccia! Mettiamo il suo soldato! Non è morto bastardo! Ciao nero! Ciao grande! Jack life matter! Mamma mia grande! Ti amo! Quanti monti ti sono a tua prossima? Grazie! Insomma mi faccia ancora più! Io c'ho anche! Io c'ho anche! C'ho una buona! C'ho contro una artellata! Arriva la scimmiana! Uh! Mi tutti! Com'è? Ultima è tua! Tuo di chi? Tua, tua! Di tu ultima! Minchia! Tu 40 minuti dopo l'hai fatto! Un po' più... Un po' più... Arriva! Sufetto di nulla, raga! Vale! Sono un po' con la ragazza, solo! Vieni attraverso! Sai, ma da dove? Via! Vattene! Vattene! Non ci sta capendo niente! Cazzo! Dio mio! Alve questo! Il Diver! Vendetta! VACCA! Ma da dove arrivare? No! Uff! Non lo sapete di cosa sa critica l'avevo! Ehm... 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 Vattano! Sono felice di morire per il gruppo! Ehm... Eh, io non scherzo! Ho tenuto da tag fuori da input! Sono felice di morire per il gruppo! Adesso metto Reaper visto che quello stronzo di merda mi viene sempre in faccia! Sì, anche con due diver non puoi stare sul terreno rialzato adesso lo do, quindi è molto meglio Dove potresti essere stata abbandonata e diventato Eggie, oh no! Te lo do io il terreno rialzato Ah, Eggie, chiamo al giocatore del mattino Ciao, ciao My planet needs me Sto già conquistando il punto, non ho capito niente Chi è? Dumpist dietro Cazzo c'è un Torbjorn, Torbjorn è utile? Che cosa? Ah, Dumpist Ah, la Torbjorn scopre, eh Un Torbjorn, ragazzi E' un Torbjorn Troppo Dumpist Non so che fare E' un Torbjorn 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 Ma... ma è possibile? E' un Torbjorn 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 Ma che era l'O4 Ho la ult Ho la ult E' un Torbjorn E' un Torbjorn E' il Torbjorn E' un Torbjorn Che cosa ti ho preso? Sì C'è ulti? C'è a destra Dumpfist Ma Kralos che è inutile Gudo ma la macchina C'è mi abbassa Mi ha fatto Dumpfist Ma c'è tratto di Sufara Presa Uhhh sono morto, sono morto Ok non sono morto Sto fatto sopra D Scusami Eh vacca C'è Lucio qua Non riesco a frenarmi Cacchio Ok tramite Ecco Parami Parami sicuramente la ulti Scusami Un morto Un morto Luzio muore 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 muore! Oh pig Un morto Un morto Oh 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 no no Il percadese Non è violenza Mamma mia Oh wow, chissà chi prenderà la play of the game Oh man, io sono stati niente più tardi dentro Oh, almeno Almeno ho fatto una persona, guarda Buone persone ha ucciso E basta, ma ma solo io Non l'ho capito perché, però vabbè Uccidere te è un bonus Forse perché hai attivato il modo Ah, come è Però dai, che è proprio Oh, 300 Oh, un viola